Questo libro coloratissimo viene da un paese del nord Europa che si chiama Lituania, infatti è scritto in lingua lituana. È stato un po' lungo tradurlo, ma è molto divertente e sono sicura che piacerà a tutti i bambini. Kake Make e le orecchie in fuga. Alma Littera Edizioni. Qualche volta Kake Make da un orecchio o dall'altro smetteva improvvisamente di sentire. Medico dell'orecchio, dottore nasale. Forse è una malattia misteriosa, pensava preoccupata la mamma, mentre aspettava con Kake Make il dottore dell'orecchio. Probabilmente hai le orecchie tappate, sentenziò la nonna e le fece il bagno. Solo papà non era sorpreso, perché anche lui, quando giocava con Kake Make, alcune volte smetteva di sentire. Ma Kake Make non aveva alcuna malattia misteriosa e si lavava le orecchie ogni giorno. Per questo la mamma, il papà e la nonna erano molto preoccupati, perché succedeva un sacco di volte che smetteva di sentire. «Ehi, guarda che bei calzini, testona!» gridava la mamma arrabbiata. «Guarda che bel cappellino ti ho cucito!» diceva la nonna. «Hai sentito cosa ho detto?» urlava il papà. «Ehi, è pronto il pranzo!» la invitava la mamma. «Tesoro, c'è la tua bistecca!» le diceva la nonna. «Vieni a mangiare!» gridava il papà. Ma neanche il papà ascoltava. «Cracracracracracracra!» risposero i corvi, che nella loro lingua significa «Anche noi andiamo a mangiare!» «Non sono necessarie le tue orecchie se non le usi!» disse sconfortata la mamma. «Sì, mamma!» rispose distrattamente Kake Make, senza aver sentito quello che diceva la mamma. Improvvisamente le sue orecchie caddero sul pavimento. Attraversarono tutta la cucina. Corsero lungo il corridoio, sempre più veloci, fino a prendere la porta dell'uscita di casa, senza neanche girarsi. «Ehi, prendetele!» gridò Kake Make, ma nessuno la ascoltava. «Orecchie! Orecchie mie! Aspettatemi, non correte!» urlò Kake Make inseguendole. «Dove potrà trovarle? Forse in un negozio di alimentari?» «Io vi indico dove le vedo!» Kake Make cercò le sue orecchie per tutto il pomeriggio. «Niente da fare! Se ne erano proprio andate!» «Probabilmente non le troverò più!» Si disperava Kake Make arrivando al giardino zoologico. E quando smise di piangere, pensò «E se prendessi in prestito le orecchie di qualcuno?» «Forse la mamma non le noterebbe!» «Ecco, potrei prenderle in prestito dal coniglietto!» «Ma sfortunatamente sono troppo morbide!» «Poi un elefante le prestò le sue orecchie!» «Ma queste erano troppo grandi!» «Oh, le scimiette furono molto gentili con Kake Make e non solo le prestarono un paio d'orecchie, ma anche la coda!» «Se la mamma vede la coda, capirà subito che le orecchie non sono le mie!» «Pensò Kake Make, molto arrabbiata per tutto questo!» «Ma dove sono le mie orecchie?» «Dove sono le mie orecchie?» Piangeva Kake Make lungo il sentiero dei pinguini «Ehi, che ti è successo ragazza?» chiese il direttore dello zoo «Le mie orecchie! Sono fuggite le mie orecchie!» piagnucolò Kake Make e raccontò tutta la sua storia «Mmm, che guaio!» rispose il direttore dello zoo accarezzandola poi sorridendo disse «Non ti preoccupare, so io come ritrovarle!» e accompagnando Kake Make a casa le diede ottimi consigli Quando rientrò nella sua casa Kake Make corse ad abbracciare la sua famiglia «Mi dispiace, mamma!» «Scusami, papà!» «Anche tu, nonna, scusami tanto! Ti prometto che non accadrà più!» E le orecchie ritornarono al proprio posto Ma quando Kake Make e il papà giocheranno insieme chiuderanno le orecchie in gabbia per non farle scappare Kake Make e le orecchie in fuga Una storia che viene dalla Lituania Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!